Non è un grande premio C'è del sangue Non è qui neanche Siu Han è scappato così Che cosa sta facendo? Dimenticatelo Lo chiamerò allora Ma il segnale è debole qui Devo salire sul tetto ovviamente Per chi ha fatto una cazzo di chiamata Trova un posto con più segnale Non può essere utilizzato adesso C'è un segreto là dentro eh Mass communication final exam Hai preso solo 90? Che schifo solo 90 Tra l'altro è il mio voto di laurea 90 Bassetto eh Chi è questo? Semmy? God de Semmy? Prezioso poster di God de Semmy Perché mai una dea questa? Sarà per le tette non lo so Non è quel gran che è Una donna normale Ah non mi prendere per il culone Che devi sempre guardare il fisico Allora ve l'ho già spiegato In una relazione Non dovete guardare l'aspetto fisico Perché tra 10 anni Tra 20 anni Magari tra 30 anni Comunque nel futuro La bellezza svanisce Che cosa resta? Il carattere Quello che c'è qua dentro La personalità di una persona Quindi Non ha senso buttarsi sul fisico Per carità è ovvio Un container Perché una persona comunque Non si butta su un container Piuttosto che a una ragazza magra Perché comunque Un container è un segno di bassa autostima E basso amore Sia per se stessi che per gli altri Ma E quindi Ovviamente Anche da un punto di vista biologico L'istinto animale Rappresenta diciamo Anche un partner più ideale Una persona che Si prende cura del proprio corpo Però Sempre a buttarsi dietro le tettone Voglio dire Non è quel gran che è Comunque È Un po' cambiato Ma è sempre stato così Questo posto Ma sicura Sicura Di essere uno studente di successo Ma in che eccesso Sei finito a studiare? Il secondo piano È sempre stato così Vecchio e sporco Cosa sono queste robe? C'erano anche prima Dietro il poster Cos'è? Foglie di banano Penso sia Degli alberi che creano Che crescono vicino ai tempi Queste foglie sono utilizzate Per Repellere il male Portarsene Qualcuna Mentre si viaggia Potrebbe essere una buona idea Comunque Si Sai Fai attenzione Quando Il nome Completo di qualcuno È chiamato Quando Te ne porti una Una di queste Uno non deve rispondere Oppure guardare indietro Altrimenti che cosa? Quindi non devo guardare indietro Se sento Oh Una foto rotta di Desuane Che Si baciava probabilmente con Con Ciao ciao mi sa Eh sì Ho proprio l'impressione che si baciasse con ciao ciao In questa foto Della fontana Quindi Ho l'impressione che quando mi chiameranno Non dovrò guardare indietro Lo sentite vero? Paura Ho tanta paura ragazzi miei Voi non avete idea Voi non avete idea Di quanto mi stia piegando addosso Eh Baseball camp Le 4.00 Che cosa dovrebbe rappresentare Sto cappellino Da 4 soldi Ci sono delle ciabatte Non so che cosa sia Eh Signorina Ma tu sei La tua stanza era nella Nella parte degli uomini Oppure era nella stanza Desuane mi sa Devo salire sul tetto Ho l'impressione di dover salire sul tetto Comunque No Non devo salire sul tetto C'erano due tacche Prima sotto Ora non ci sono Ora c'è una sola tacca Comunque Poi questo rappresenta La connessione Suppongo Al Alla torretta Radio più vicina Al ripetitore più vicino Quindi due Due tacche Devo scendere suppongo Oddio No Non in cantina Sarebbe paradossale Dover andare in cantina Per prendere Per avere più segnale Vero Oh Finalmente posso entrare Nella vanderia Spero che non succeda Qualcosa di brutto Succederà qualcosa di brutto Dove sei andato Niente Solo visto Ciao ciao Credevo che ci stesse cercando Qualcosa non andava con lei Quindi sono andato dietro di lei Ma non l'ho più trovata Molto strano Vero Non mi sento 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 Dove sei Vengo a cercarti Dove stare con Weyao In questo modo sarò più sicuro Il nostro L'eccopaggiamento è ancora Su Ti troverò più tardi Ehi Aspetta Aspetta Cosa sta succedendo Tutti si comportano Abbiamo visto Fanta Tutti Cosa sta succedendo Tutti si comportano In modo strano Appena visto Una tinozza Muoversi da sola Una porta A perersi da sola Ho sentito Rumori di ogni genere Che cosa sta succedendo Secondo te Scarafaggio ovunque Mosco ovunque C'è C'è Questo у sto posto Dove devo andare Sta tv Si può spegnere Per la madonna Fuori Tornerò più tardi Ah Non posso prendere La bevanda stavolta Prima ho preso la bevanda Vi ricordate che è comparso Un panno Tipo dietro di me Che mi ha detto Tu sei il prossimo Qualcosa del genere Ma che cosa vuoi da me Chi ti conosce Devo uscire Oh Una foto Delle loro ombre Trova Weyao Dentro Il dormitorio Oh qui c'è il talismano che non posso cagare ovviamente Il talismano ormai è maledetto perché è stato toccato dal fantasma Ma queste sagome gialle Che cosa sono? Non posso uscire quindi devo cercare un Yao dentro Il telefono non esiste ovviamente Dentro il dormitorio Non è che è in cantina Non mi fare del male ti prego No ok Per fortuna non è in cantina però Dove potrebbe essere? O sul tetto ovviamente il gioco cercherà di farmi fare Più strada possibile per trovare il mio amico Oh no qua si è aperto il primo piano si è aperto Io ero al primo piano secondo Sì ero al primo piano io ok Sì sì io ero al primo piano Dove potrebbe essere? Posso aprirle? No non le posso aprire quindi sicuramente sarà da qualche parte Dove posso aprire Oh ecco qua qua si è aperto Cosa c'è là in fondo? Lì in fondo c'è qualcosa Cos'è? Oddio mio Mi ricordano molto gli angeli di Dottor Strange Avete presente? Quelli che si coprono la faccia Ok Ok E biglietto della lotteria Non è un grande premio C'è del sangue Oh 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 Stato un bello spavento avete visto? Prima non c'era No no è comparso dopo che ho controllato il biglietto Ne sono sicuro Prima non c'era Questo è Tian Meng Dove sei? Oh oh Le campanelle stanno suonando Non è un bel segno questo Dentro quella stanza che sta pregando? Fammi esplorare tutto Sì è dentro questa stanza che sta pregando Ma prima fammi spaventare per bene con tutte queste stronzate che ci sono in giro Così potrò dire di aver visto tutto Tutto di questo gioco Non c'è un cazzo Un pisciatoio Buono saperti Scusatemi se sono serio ma mi sto veramente spaventando Ah ecco Ah no è lui Cosa è la foto di tua madre questa? Oh Boru Login username smartman124 Che succede? Non è sentito la porta aprirsi Cosa stai gridando a fare? Non vuoi farti vedere? No ti prego non farlo Che cosa? Non hai visto quello che ho visto? No aspetta Spero che tu non veda quello che ho visto io Eh lo sai? Non ci stavo mentendo per favore Non mi guardare in questo modo Guarda qui Cosa sta succedendo a te? E' maledetto Secondo me è maledetto Pensavo che fosse con te ma E' finito fuori che lei Qualcosa è successo 4 anni fa Sul ponte Siamo finiti Quindi il bambino che sta piangendo Quindi l'ho incontrato anche tu Ti ho detto di non fare questa sfida Che cosa facciamo adesso? Dovremo riuscire a trovare Sion Ha detto che andrò al Ficcio della comunicazione per prendere la sua roba Lo aspetteremo lì Ma Sion ha detto Di prendere la sua roba sul ponte No Mi ha appena detto di prendere la sua roba sul ponte La sua roba era dentro La stanza in cui eri tu Con la fotocamera E il tripode No questa è una fregatura ragazzi miei Qui Smartman Che c'è scritto? Freshman Handwritten Thank you note Thank you smartman1245 Per il tuo aiuto Sei il migliore Smartman1245 Chi è? Chi è questa? Tua madre Wenyao Che c'è qui? Invoice Ehm Sarebbe ricevuta Cosa ha comprato? Lubrificante Idratante E modificare Cranberry Cranberry Non so È una bacca Che adesso non mi viene in mente Ha pagato con 2000 E si è preso 800 di resto Furbetto Smartman1245 Il tuo username vero? Eh L'ha pure cercato È una cotta per me No l'ho trovato Con un po' di gossip Che tu hai postato qualcosa Sui forum Che creep Sei inquietante Quindi dobbiamo andare all'ufficio Comunicato Madonna A ogni volta che sento le mosche Mi spavento Oh Qui c'è qualcosa Lettera non identificata Un pezzo di carta che dice Perché non muori? Uno può sentire L'odio semplicemente Dalla Dalla calligrafia Ok Questo mi sta facendo sentire disagio Anche io sono molto a disagio ragazzi Quindi mi sa che L'episodio lo termineremo qui per ora Perciò Grazie per aver guardato In cui mi auguro Nella prossima puntata Di questo bellissimo videogioco Vi auguro la prossima giornata E a te che mi stai guardando ancora adesso Ti voglio un mondo di bene Bella Bella Ciao